No no, brevissimi, brevissimi, anche perché ti ripeto, in 10 contro 11. Il fatto che negli ultimi 20, non perdono, non perdono, non perdono, non perdono. Non perdono, non perdono, non perdono, non perdono. Si buttano lì, se no in 10, non perdono, perché la ragione è aperta. Si fa rietto finale tra tifosi del Pescara, del Vicenza e del Magnani D'Oscara. Una notte a tutti.